Armonia d'Arte Festival continua a sorprenderci. Finalmente, nell'incantevole scenario del parco archeologico di Scolacium, arriva la lirica. Chiara Giordano, una straordinaria novità. Sì, la grande lirica per Armonia d'Arte Festival era un sogno. Ed eccoci, venerdì 4 agosto alle ore 22, Carmen. Un titolo amatissimo, del grande repertorio, è conosciutissimo, ma noi lo faremo con un allestimento particolare, contemporaneo, che sì, sorprenderà tutti. Un cast importante di profilo nazionale e internazionale e straordinarie sorprese. Naturalmente vi aspettiamo tutti e ogni dettaglio su www.armoniadarte.com. La Carmen sarà una grande sorpresa. Lo promettiamo venerdì 4 alle ore 22 a Scolacium.